Prova di registrazione a 1080p con Samsung Galaxy S3 Possibilità di zoom durante la registrazione e anche di mettere a fuoco in più parti del display col touch durante la registrazione Questa invece è la prova di registrazione a 1080p sempre con Galaxy S3 con l'antivibrazione attivato Vediamo che la messa a fuoco è molto rapida Sembra molto buono